Ciao a tutti ragazzi e bentornati al corso di trading sportivo sul tennis questa sarà la prima lezione del corso di tennis e si partirà naturalmente dalle basi più assolute poiché molti mi hanno detto che arrivano da un background non di tennis assolutamente non conoscono il tennis e quindi partiremo dalle basi assolute il mio obiettivo come vi ho detto nell'introduzione è far conoscere il tennis a quelli che non conoscono nulla di tennis e riuscire a far partire chiunque con la disciplina del trading sportivo sul tennis quindi inizieremo a parlare delle regole, degli eventi, dei campi principali naturalmente anche dei tennisti perché molti magari conosceranno i vari Nadal, Federer eccetera eccetera ma magari non sanno i record che hanno ottenuto in carriera o magari in quali campi e in quali eventi sono più forti e quindi oggi si inizierà con una introduzione spero che sia abbastanza comprensibile per tutti ma vi ricordo anche ragazzi che alla fine di queste slide e anche nella descrizione di questo video troverete dei video, altri video su YouTube che ho trovato che sono molto esplicativi, che sono molto facili da seguire e molte cose del tennis in realtà è più facile spiegarle con un video che ti evidenzia un po' le zone del campo eccetera eccetera quindi alla fine se vorrete approfondire le basi del tennis avrete la possibilità con questi video oppure ragazzi vedrete che quando imparerete a fare trading e quindi quando vedrete tante partite imparerete le basi del tennis quindi nessun problema, non c'è nessun bisogno adesso di sapere qualsiasi cosa del tennis per incominciare semplicemente avere un'infarinatura generale ecco delle regole, degli eventi, anche dei campi magari dei tennisti iniziamo subito parlando delle regole principali del tennis il tennis è uno sport che vede opposti due giocatori questo penso che lo sappiate tutti ma si può giocare anche due contro due quindi quattro giocatori adesso non voglio fare una introduzione troppo grossa sulle regole proprio dello sport ma vedete le linee quelle ai lati adesso questa è una foto dove c'è questo rettangolo lungo da tutte e due le parti di campo sulla sinistra della foto del campo quello è la zona dove appunto è out quindi se un tenista per esempio batte e fa arrivare la pallina lì la fa cadere lì è out quindi è un fallo, è un punto a favore di quello che appunto non ha battuto quindi è un punto a sfavore se tu colpisci e fai finire la pallina lì ma nel doppio, nel doppio quella parte di campo è valida quindi questa è una differenza per esempio una delle tante differenze che c'è tra il singolare e il doppio in ogni caso questo non sarà un corso dove vi spiego le regole del tennis non voglio insegnarvi a giocare a tennis come vedete appunto c'è un campo diviso in due metà e c'è una rete alta circa un metro dal terreno lo scopo del gioco è colpire la palla per far sì che l'avversario posto nell'altra metà del campo di gioco non possa ribatterla dopo il primo rimbalzo quindi essenzialmente tu devi tirare la palla che va sull'altra parte di campo dopo un rimbalzo l'avversario deve per forza colpirla e farla tornare indietro perché se per esempio rimbalza due volte il punto è a favore di chi appunto ha battuto e quindi tu devi per forza ribatterla nell'altra parte di campo è un po' meno che vada fuori o meno di altre cose ma in ogni caso adesso lo scopo generale del gioco è quello ragazzi di fare punti e i punti si fanno così colpendo la palla e facendo in modo che l'avversario non riesca a controbattere diciamo questo colpo queste diciamo sono le basi più assolute del tennis che vi ripeto ragazzi con l'esperienza quando vedrete le partite se non avete mai visto un incontro di tennis sarà tutto molto semplice anche le regole che sono poche non sono tantissime ma potrebbero essere un po' come si dice tricky in inglese un po' magari strane all'inizio arriveranno non c'è nessun problema quindi con la pratica e con l'esperienza di vedere un po' di partite anche quando si fa la trading arriverà tutto molto molto naturale le basi del tennis i giocatori utilizzano una racchetta come se fosse il prolungamento del braccio al fine di colpire una palla fin qua è abbastanza tutto chiaro questo è abbastanza chiaro in passato le racchette avevano un telaio in legno adesso sono in leghe leggere adesso sono in grafite pura omista successivamente al legno c'erano le leghe leggere ora in grafite pura omista adesso non voglio fare un'introduzione nemmeno al mondo delle racchette del tennis ma soltanto dirvi che in Italia a Baldissero d'Alba in Piemonte non lontano da Torino è presente un museo della racchetta dove ci sono oltre 900 racchette di ogni epoca di ogni tenista alcune addirittura originali e quindi se siete interessati al tennis questa è una cosa interessante dato che è un museo che c'è in Italia per quelli che arrivano dalla Lombardia dal Piemonte o anche quelli che arrivano da ogni parte d'Italia è sicuramente un museo che andrebbe visitato se siete appassionati del tennis abbiamo un museo di tennis in Italia quindi è giusto fare questa referenza ma adesso passiamo al punteggio nel tennis che è quello che spaventa molte persone cercherò di renderlo abbastanza semplice per tutti e vi ricordo ancora una volta che ci saranno i link che vi porteranno a video dove è più facile seguire in un video appunto tutto quello che succede ma in ogni caso nel tennis ci sono i punti ci sono i game e ci sono i set io li ho elencati al contrario quindi per vincere una partita di tennis bisogna vincere due o tre set e nei Grand Slam che adesso parleremo di questi Grand Slam ci saranno tre set per gli incontri maschili quindi solo nei Grand Slam bisogna vincere tre set in tutti gli altri incontri in tutti gli incontri di donne quindi gli incontri femminili ci saranno soltanto due set da vincere questo non significa che ci saranno solo due set nella partita perché appunto bisogna almeno vincerne due cioè vincerne due per vincere la partita o vincerne tre nei Grand Slam ogni set è composto da sei game per vincere un set tuttavia devi avere almeno due game di vantaggio o si va al tie break allora ragazzi questa è la situazione quando noi parliamo di risultati tennistici quando noi parliamo di partite che sono finite 6 a 0 6 a 1 6 a 2 ci rifacciamo al fatto che per vincere un set bisogna vincere sei game e per vincere appunto un set devi vincere questi sei game ma averne almeno due di vantaggio dall'avversario quindi se diciamo 6 a 0 6 a 1 6 a 2 6 a 3 6 a 4 va benissimo ma un 6 a 5 no non va più bene perché devi avere almeno due di vantaggio dall'avversario quindi un 7 a 5 per esempio se dovessimo finire 6 a 6 in una partita in un appunto set si va al cosiddetto tie break dove non si conteggiano più i punti in maniera tradizionale 0, 15, 30, 40 ma si conteggeranno in maniera numerica quindi 1, 2, 3 fino a che quello che fa 7 punti avendone sempre due di vantaggio dall'avversario si porta a casa il set vince il game e si porta a casa il set allora ragazzi lo so che potrebbe sembrare un po' complicato ma in realtà non lo è quando vedrete delle partite sembrerà molto più facile tutta sta roba qua e in realtà quando si arriva al tie break il primo che fa 7 punti vince quindi 7 a 1 7 a 2 7 a 3 eccetera eccetera ma se si dovesse arrivare per esempio 5 a 5 l'altro deve vincere 2 di fila o comunque deve essere 7 a 5 se no si va a altranza se no si va a altranza fino a che uno ha 2 punti in più dell'altro poi ci sono anche qua delle cose non per forza sempre uguali gli eventi anche molto spesso gli eventi cambiano un po' ma la struttura è questa la struttura è questa per vincere un set bisogna fare 6 game se siamo 6 a 6 si va al tie break però detto questo ogni game è composto dai punti che vengono contati in 0 15 30 e 40 e quindi se io per esempio sono 40 a 15 e sono in vantaggio quindi a 40 faccio un altro punto e mi sono portato a casa il game ma se siamo 40 a 40 bisogna farne 2 di fila perché se no si va ai vantaggi e quindi quello che fa un punto sul 40 a 40 va a vantaggio quindi advantage è scritto ADV in inglese sul diretta che guarderete delle partite ma se l'altro poi risponde fa un punto si ritorna 40 a 40 quindi per vincere un game 40 a 40 bisogna per forza appunto vincerne 2 di fila quindi vincere 2 punti fare 2 punti di fila ovviamente a meno che non siamo in un tie break perché come vi ho appena spiegato qua cambia qua cambia tutto questa diciamo un po' un'introduzione al punteggio nel tennis al fondo di questo video nella descrizione c'è un video molto esplicativo su come funzionano i punteggi nel tennis vi invito a guardarli e poi comunque vi invito a guardare tante partite perché tanto se vorrete fare trading sul tennis vi servirà a guardare anche le partite e capirete tutto capirete assolutamente tutto quindi nessun problema per quanto riguarda il punteggio pian piano imparerete anche come si conteggiano i punti nel tennis ma parliamo invece degli eventi principali nel tennis perché questo è quello che ci interessa un po' di più invece nel senso noi vorremmo fare trading sul tennis e vi assicuro che quando ritorneranno gli eventi che purtroppo adesso sono fermi si può fare trading davvero tutto l'anno davvero tutto l'anno su eventi principali un po' minori molto minori ci sono eventi praticamente tutto l'anno e questa è una cosa incredibile questa è una cosa incredibile perché comunque ci sono tennisti liquidità tutto tutto l'anno e è uno sport che attrae tantissimi soldi il tennis quindi è uno sport che vedrete dovete avere nel vostro portfoglio perché secondo me è uno sport che porta innanzitutto profitti pazzeschi se riuscite a fare bene trading su questo sport e quindi perché no dico perché no e quindi anche un po' lasciare il solito calcio lasciare magari le partite adesso ovviamente non c'è nulla ragazzi lo so però d'estate in un'estate qualsiasi al posto di fare trading sulla calcio giapponese o americano potrebbe essere molto più conveniente fare trading su eventi che ci sono in estate sul tennis ma in ogni caso ragazzi partiamo subito parlando del ranking ATP gli eventi si suddividono in base a quanti punti ATP sono potenzialmente ottenibili praticamente per essere il numero uno al mondo devi avere più punti degli altri e questi punti li ottieni principalmente dagli eventi dagli eventi quindi gli eventi sono naturalmente in base anche al monte premi perché eventi più grossi hanno anche monte premi più alti però principalmente gli eventi più importanti sono quelli che ti danno più punti e nel tennis sono appunto i quattro grand slam sono i grandi slam dove il vincitore ottiene 2000 punti anche tanti milioni di dollari come ricompensa ma diciamo che il punteggio è la cosa più importante successivamente ai grandi slam ci saranno le ATP finals dove il vincitore ottiene tra i 1100 e i 1500 punti quindi è il secondo evento più importante che c'è alla fine dell'anno dopo troveremo i 9 ATP Masters 1000 dove il vincitore ottiene 1000 punti e successivamente ci saranno gli ATP Masters 500 con 13 eventi e quelli da 250 con addirittura 40 eventi quindi capite quanti eventi ci sono in un anno praticamente tutto l'anno è tempestato da eventi di tennis e è impossibile non trovare una partita di tennis da tradare praticamente al giorno quasi e quindi una cosa anche molto importante da dire è che c'è sempre tantissima liquidità sul tennis davvero c'è sempre tantissima liquidità i mercati sono sempre irrazionali ed è veramente un mercato anche divertente da tradare quindi vi consiglio assolutamente di seguire questo corso perché vedrete che il tennis è assolutamente disponibile in Italia la liquidità è spesso buona e quindi vi consiglio di continuare anche questo corso ma come vedete gli eventi sono suddivisi in base ai punti potenziali che si fanno e ovviamente anche al monte premi e anche diciamo al prestigio perché ci sono alcuni eventi che sono più prestigiosi di altri non soltanto per i punti o per il monte premi che sono la diretta conseguenza ma anche per il prestigio diciamo che ha intorno a sé partiamo dai quattro grandi slam i quattro eventi più importanti dell'anno sono appunto l'Australian Open il primo dei quattro perché sto andando in termini di tempo di quando si svolgono all'interno dell'anno il primo dei grandi slam si gioca a fine gennaio in Australia è il secondo monte premi di tutti i tornei dove il vincitore ottiene oltre 3 milioni di dollari mica male no? si gioca su una superficie in cemento adesso qua non sto troppo ad andare nel dettaglio diciamo di come è composto il campo dell'Australian Open di parlare delle varie leghe che sono utilizzate le leghe del cemento eccetera eccetera diciamo che è una superficie hard no? come si dice in inglese quindi si gioca su una superficie in cemento quindi dura e Djokovic ha un record di 8 titoli su questa superficie e su questo evento su questo campo con 8 finali vinte quindi non ha mai perso una finale Djokovic in un Australian Open dove appunto si gioca a fine di gennaio ed è uno dei primi ed è uno dei quattro grandi slam ed è il primo appunto dei quattro in termini di tempo il secondo è il Roland Garot che si gioca a Parigi nell'ultima settimana di maggio e che ha un monte premi totale di oltre 45 milioni di dollari e oltre 2 milioni per il vincitore quindi anche questo non è assolutamente un torneo minore e si gioca su una superficie in terra battuta questo è importante è molto diversa la terra battuta dal cemento dalle hard courts e Nadal diciamo che è un po' il simbolo della terra battuta è un po' il più forte di tutti quando si parla di terra battuta è un record di 12 vittorie addirittura in questo particolare evento quindi Nadal è un po' il king infatti si chiama king of clay proprio perché è il più forte praticamente della storia quasi sicuramente ma sicuramente così è il più forte di tutti ed è anche il mio tennista preferito per quelli che amano Federer o Djokovic purtroppo il mio tennista preferito è Nadal ragazzi non vogliatemi male ma adesso parleremo anche degli altri eventi Nadal sicuramente è il punto di riferimento di quando si parla terra battuta e di quando si parla di Roland Garros poi abbiamo Wimbledon che probabilmente è l'evento più importante di tutti ed è anche il più prestigioso e antico dove i giocatori devono vestirsi sempre tutti di bianco non si possono avere vestiti strani tutti di bianco tutti eleganti si gioca a Londra si gioca nel diciamo nel quartiere di Wimbledon è il più antico e prestigioso evento di tennis al mondo il primo evento si è svolto addirittura nel 1877 e vanta un monte premi totale di oltre 45 milioni di dollari quindi comunque sono eventi che attraggono tantissimi soldi tantissima liquidità sui mercati tantissime attenzioni specialmente Wimbledon che purtroppo è stato annullato notizia di qualche giorno settimana fa purtroppo non ci sarà Wimbledon quest'anno e gli unici diciamo eventi in cui non si è disputato un Wimbledon sono stati durante gli anni delle guerre mondiali quindi potete capire in che periodo ci stiamo trovando ragazzi è un periodo veramente storico purtroppo purtroppo naturalmente ma è un periodo storico non ci sarà Wimbledon quest'anno è uno dei pochissimi eventi sull'erba praticamente uno degli unici eventi sull'erba e Federer ha ben 8 vittorie a Wimbledon e Federer è sicuramente il simbolo diciamo un po' di questa competizione anche se Djokovic è molto forte a Wimbledon ha vinto l'ultimo Wimbledon Federer però è considerato diciamo uno dei più forti sull'erba anche se in realtà è uno di quei giocatori che è forte dappertutto ma in ogni caso Federer è un po' il simbolo di Wimbledon e ne ha vinti ben 8 e poi l'ultimo Wimbledon in ogni caso si gioca a luglio si gioca a luglio se non sbaglio dovrebbero essere le due ultime di luglio comunque si gioca in estate mi sono dimenticato di scriverlo Wimbledon non sono mai andato a guardare Wimbledon perché costa un sacco di soldi andare a guardare Wimbledon però si è in estate quello sicuramente è così credo a luglio ma in ogni caso questo è il terzo evento in ordine temporale come Grand Slam l'ultimo evento dell'anno è lo US Open il torneo in assoluto più ricco con un monte premi di oltre 53 milioni di dollari si gioca a fine agosto e inizio settembre ed è l'ultimo Grand Slam dell'anno quindi l'ultimo in fattore di tempo è questo lo US Open che è probabilmente il più ricco non il più prestigioso Wimbledon direi che è il più prestigioso dello US Open però è il più ricco dove ci sono più soldi in giro e quindi sicuramente è quello che attrae anche un sacco un sacco di liquidità sui mercati la superficie del campo è il Decoturf una lega che ricopre asfalto e calcestruzzo anche qua non voglio andare troppo nel dettaglio è una Hard Court come l'Australian Open non è sicuramente erba non è sicuramente clay quindi non è argilla terra battuta e diciamo cemento asfalto Federer ha 5 titoli e Serena Williams che è una nota diciamo tenista femminile probabilmente la più forte di tutte ne ha ben 6 ha ben 6 US Open ma adesso parliamo invece delle ATP Finals come vedete in questa foto io sono andato praticamente nelle ultime 2 o 3 ATP Finals se non sbaglio speriamo che quest'anno ci siano di nuovo le ATP Finals le ATP Finals come vi ho detto prima sono il torneo più importante dopo i 4 slam perché oltre a offrire un importante premio in denaro quello assolutamente si ha un sacco di soldi circa 7-8 milioni adesso non mi ricordo esattamente offre un sacco di soldi le ATP Finals ha anche da anche tra i 1100 e i 1500 punti e quindi vedete che è meno dei 2000 di un grande slam ma è più di un ATP Masters 1000 quindi è una via di mezzo e rendendo un torneo meno importante di un gran slam ma più importante di un ATP Masters quindi è sicuramente un evento molto molto importante molto di punta si gioca a metà novembre quindi è subito praticamente dopo lo US Open quel grosso evento subito dopo il grande slam si sfidano gli 8 milioni tennisti di singolo e doppio del ranking e il torneo si svolge a metà novembre il torneo si svolge a Londra con una superficie cemento indoors si gioca alla O2 Arena e quindi appunto cemento indoors ed è un torneo sicuramente molto importante dove mi ricordo ho visto tantissime partite all'ATP Finals a dire il vero ho visto tantissimi incontri uno dei più belli è stato quest'anno Federer contro Djokovic sicuramente è stato un bellissimo incontro dove Federer forse era quello dell'anno prima si era quello dell'anno prima non mi ricordo in ogni caso ho visto tantissime partite all'ATP Finals e ci sono state partite veramente incredibili è un bellissimo evento ed è l'ultimo praticamente dell'anno l'ultimo grosso evento dell'anno Federer vanta ben sei titoli ATP Finals Djokovic invece ne vanta cinque l'ultimo si mi ricordo che l'ultimo è stato Djokovic team contro Djokovic la finale dell'ultimo ATP Finals una bellissima partita e dal 2021 questo torneo passerà da Londra a Torino io sono molto contento essendo di Torino perché sicuramente andrò a Torino a guardarmi le partite purtroppo c'è un po' di ignoranza perché a Torino sentivo dire che arrivavano i mondiali di tennis ho sentito addirittura che arrivavano le olimpiadi di tennis ho sentito cose un po' brutte diciamo che non proprio da intenditore del tennis come avete capito le ATP Finals sono un torneo di fine anno che appunto viene disputato tra gli otto migliori tennisti ed è subito dopo i quattro grandi slam quindi non partecipano tutti i tennisti solo otto in questa competizione ma sono i migliori del mondo sono i primi numeri otto quindi non sono i mondiali non è la Coppa Davis dove si gioca a nazioni è semplicemente un torneo di fine anno dove appunto ci sono otto tennisti quindi non dite più per favore che ci sono i mondiali di tennis a Torino poi ci sono gli ATP World Tour Masters 1000 dove appunto avete capito che si vincono 1000 punti chi vince questo torneo vince 1000 punti nel ATP Points e appunto c'è Indian Wells in California poi c'è Miami Open diciamo che principalmente sono in America per esempio il Canadian Open Cincinnati Masters Indian Wells che è in California da qualche parte Miami Monte Carlo Masters è il detentore del titolo e Fognini un italiano poi c'è il Madrid Open naturalmente c'è l'Italian Open che è un altro torneo sulla terra battuta poi c'è il Canadian Open Cincinnati Masters Shanghai Masters Paris Masters ma in ogni caso non voglio andare troppo nei dettagli su qualsiasi evento questo era solo per farvi capire quanti eventi ci sono di tennis all'anno è veramente è impossibile non riuscire a fare trading tutto l'anno tutto l'anno per esempio l'Italian Open se non sbaglio dovrebbe essere a metà maggio circa a metà maggio ed è un altro torneo molto importante io sono andato a vedere qualche evento dell'Italian Open e questo sicuramente è uno sport davvero dove sempre c'è sempre qualcosa c'è sempre qualcosa ed è veramente interessante anche da tradare come sport ma parliamo dei principali tennisti quelli che conoscono praticamente tutti i big three del tennis i big three del tennis iniziamo naturalmente da Roger Federer sua maestà quasi perché viene soprannominato King Roger oppure The Swiss Maestro è considerato uno dei tennisti più forti della storia vabbè per l'accuratezza della sua tecnica per i colpi fuori di testa che fa veramente ha una mente da studiare veramente quando morirà Federer devono assolutamente analizzarlo e riuscire a capire come fa a fare certe cose la sua capacità di essere dominante su ogni superficie Federer davvero è stato perché è comunque a fine carriera ma è stato veramente incredibile davvero alcune partite di Federer sono veramente state incredibili ha vinto addirittura 20 titoli grandi slam 6 ATP Finals 50 Masters 1000 e 31 Masters 500 quindi potete capire che ha un palmarès mica male questo Roger Federer è stato per ben 237 settimane consecutive il numero 1 del ranking quindi sicuramente il più grande della storia direi il più grande della storia almeno moderna Roger Federer un punto di riferimento quello che sicuramente ha portato il tennis insieme a Nadal e a Djokovic a livello successivo anche come popolarità non che non fosse popolare il tennis però Roger Federer lo conoscono anche quelli che non sanno proprio niente di tennis sanno tutti che Roger Federer è un tennista e quindi vabbè avevamo avuto Andre Agassi abbiamo avuto tantissimi tennisti importanti ma Roger Federer sicuramente è il punto di riferimento per tutti nell'era moderna del tennis ma poi passiamo a Rafa Nadal che personalmente è il mio favorito assolutamente io impazzisco per Rafa Nadal e questi sono gusti ragazzi naturalmente ognuno quelli che sono fan di Federer diranno che io non capisco niente di tennis perché mi piace di più Nadal ma questo fa parte naturalmente dello sport non vi dico di che squadra sono se no chissà che dibattito esce fuori ma in ogni caso di calcio intendo Rafa Nadal è uno è considerato sicuramente il più grande tennista della storia sulla terra rossa imbattibile sulla terra rossa da qui soprannominato the king of clay quindi il re dell'argilla essenzialmente della terra rossa il campo rosso dove si gioca per esempio Roland Garot e il suo stile potente lo hanno reso uno dei più grandi di sempre veramente il suo stile aggressivo davvero il suo stile potente è proprio un toro Nadal è proprio un toro non si ferma mai anche il suo corpo è diverso per esempio da quello di Federer stili molto diversi ed è per questo che il tennis è uno sport così pieno appunto anche di dettagli diversi Vantabend 19 titoli Grand Slam principalmente Roland Garot 35 Masters 1000 27 Masters 500 ed è stato per ben 209 settimane il numero 1 del ranking non consecutive ragazzi Federer ha il record di settimane consecutive al numero 1 però Nadal è stato per 209 settimane il numero 1 del ranking quindi probabilmente non il più forte di sempre non il più grande di tutti ma secondo me uno dei migliori sicuramente sulla terra rossa gli incontri di Nadal sono sempre stati i miei favoriti da guardare però qua d'altronde qua andiamo sui gusti personali quindi nessun problema se agli altri piace di più Federer a me piace Nadal ma passiamo al terzo grosso tennista uno che mi ha fatto perdere un sacco di soldi sui mercati ma questo è un dettaglio Novak Djokovic considerato uno dei più grandi di sempre le qualità di Djokovic sono uno stile che si adatta a qualsiasi situazione è uno stile di gioco completo anche il mindset che ha nelle partite Djokovic è incredibile ve lo assicuro ragazzi Djokovic è uno di quelli che è più forte quando è in svantaggio di quando è in vantaggio le partite di Djokovic che mi hanno anche fatto perdere capitali sui mercati dove davvero non ci credevo a quello che stava succedendo e inoltre il giocatore con il monte premi totale più alto è quello che ha vinto più soldi ma questo non è che sia diciamo un indicatore di quanto sia bravo cioè ovviamente più soldi fai probabilmente più sei forte ma comunque è uno dei migliori probabilmente anche uno dei più odiati perché diciamo anche gli atteggiamenti che spesso ha non sono sempre dei migliori ma in ogni caso Djokovic è un giocatore di tutto tutto rispetto uno dei migliori uno dei grossi tre tennisti vanta ben 17 titoli Grand Slam 5 finali ATP Nadal non ha mai vinto una finale ATP 34 Masters 1000 14 Masters 500 ed è stato per ben 282 settimane il numero 1 del ranking quindi sicuramente anche Djokovic sa il fatto suo e la cosa incredibile ragazzi è che questi tennisti che sono Federer ha 38 anni Djokovic non so esattamente quanti anni abbiano però non sono più dei ragazzini diciamo non sono più dei ragazzini ma non c'è trippa per gatti quando ci sono loro tre di mezzo gli altri non vincono un tubo e quindi tra virgolette nel mondo del tennis il ricambio generazionale secondo me ma secondo tutti avverrà solo quando questi tre mostri usciranno di scena perché per esempio Dominic Thiem finalista insieme a lui nelle ATP Finals non ha mai vinto uno slam e così via con tutti gli altri tennisti un po' diciamo più bassi penso a Sverev penso diciamo a tutti gli altri anche solo Fognini se parliamo degli italiani secondo me arriveranno a vincere i grossi titoli i grossi titoli più importanti del mondo degli slam solamente quando questi tre mostri sacri se ne andranno e andranno in pensione perché stanno e hanno monopolizzato il mondo del tennis per così tanti anni che davvero è incredibile ma è pieno di tennisti diciamo inferiori più forti penso a Tsitsipas penso a Spuntasverev Medvedev penso a tantissimi tennisti Kyrgios un altro tennista australiano incredibile per lo stile che ha di giocare insomma ragazzi vedrete che il tennis è uno sport molto molto interessante molto bello da guardare vi lascio appunto dei link utili se volete approfondire se volete farvi un po' gli occhi i migliori colpi di Federer di Nadal di Djokovic tutti i link che saranno disponibili nella presentazione cioè scusatemi nella descrizione qua sotto le regole del tennis il punteggio nel tennis questa era un po' un'introduzione diciamo al mondo del tennis io ho giocato a tennis per diversi anni in maniera diciamo così per divertirmi non ho mai fatto tornei non ho mai giocato in maniera agonistica però mi sono sempre un po' allenato è uno sport che mi piace molto ragazzi che vi invito a seguire se volete imparare a fare trading guardatevi un po' di partite non appena tornano gli eventi grazie mille se vi è piaciuta questa appunto lezione mettete like se volete iscrivervi io vi ringrazio come sempre ragazzi noi ci vedremo il prossimo lunedì per una importante lezione sulle basi del trading sportivo sul tennis quindi non non più soltanto del tennis in generale di Nadal di Federer eccetera eccetera ma anche del trading di come ci si approccia a fare trading su uno sport come il tennis vi farò vedere un po' i mercati di tennis come sono come funzionano e naturalmente man mano che andremo avanti sulle strategie vi parlerò anche di come sono le maniere diciamo più profittevoli per fare trading sul tennis con tantissime strategie grazie a tutti ragazzi noi ci troveremo di nuovo qua su questo corso il prossimo lunedì